È stato un po' di cattiveria sottoporta, secondo me, perché comunque abbiamo creato un vissima azione da gollo, però purtroppo il Bari è stato abbastanza fortunato. Io sono sempre lo stesso, pure se mi criticano o meno. Purtroppo il ruolo del calciatore è questo, ti dicono bravo quando fai bene e ti dicono cattivo quando non fai bene dal piccoletto. Però io sono sempre quello, a me non mi interessa i tifosi, i tifosi rengono lo Stato per criticare e per approvverti. Io sto bene e continuo a fare così. Da Ciccio, sì. Abbiamo un rapporto speciale con lui, io vado d'accordo con tutti, però con lui un po' di più. Senti, di cominciare da Sassilio, poi il fatto di imparare soltanto negli ultimi minuti per cercare un assist oppure un gol vincente, così come è successo oggi? Io vorrei giocare sempre, pure in allenamento, però sto a disposizione del mister. Se il mister mi dice di non giocare dall'inizio, penso che il mister non va quando sei stesso, che non vuole vincere. Quale scelte, pure se Mastieni pure oggi ha fatto una bellissima partita. Io sto a disposizione, prima o dopo mi faccio trovare pronto. Come ho detto a Sassilio, spero che sia mio fratello, però stasera chi segna sede in Napoli basta che si vince. Sassilio, spero che sia mio fratello,